Il Consiglio Comunale di Agropoli è stato convocato per il 21 maggio prossimo alle ore 18. Gli argomenti all'ordine del giorno sono 7. Approvazione verbali della seduta precedente, programma triennale 2019-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici, programma biennale acquisti di beni e servizi 2019-2020, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019-2020, approvazione bilancio armonizzato 2019-2021 e DUP 2019-2021, azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, approvazione piano programma 2019-2021 e riconoscimento debiti fuori bilancio. Una sise che si prospetta interessante e animata visti gli accadimenti giudiziari che hanno coinvolto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e la successiva richiesta dei consiglieri di minoranza Abate Botticchio e Caccamo di inserire nel Consiglio Comunale la mozione di sfiducia al sindaco. Inoltre trattasi di argomenti relativi al bilancio c'è attesa sull'intervento del consigliere consolato Natalino Caccamo riguardante proprio i conti del comune che sono stati oggetto per una settimana intera sui social di dura polemica con una serie di botta e risposta tra il consigliere e il sindaco qualora la seduta dovesse andare deserta il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'aula consigliare del comune di Agropoli il giorno 23 maggio.